Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Riprendiamo il seminario con Vincenzo Cipriano. Per tutti quelli che ci seguono in diretta streaming, se vogliono scriverci qualcosa possono andare sulla pagina di Teatro Sospeso su Facebook. Grazie mille e la parola a Vincenzo. Buongiorno a tutti. Domenico, ti chiedo di spegnere un attimo le luci. Chiudiamo quello che ci siamo detti ieri perché vi volevo far vedere per qualche minuto un po' quello che poi alla fine succede dopo tutte le chiacchiere che ci siamo detti. Nel senso che poi il senso di quello che viene costruito è lo spettacolo che va in scena. Allora, vi volevo far vedere due trailer di due nostre produzioni che chiaramente vi danno anche l'idea di quello che poi è il progetto finale. Posso partire? Un attimo solo che... Sì, sì, partiamo. La parte artistica. Uno non si innamora mica della parte organizzativa o economica di un progetto, si innamora dell'esito, del progetto artistico. Avete visto un video. Il primo era il trailer della Regina delle Nevi. La Regina delle Nevi è una coproduzione internazionale che il Kismet ha fatto con il Festival di Atene, con l'Institata Gaia di Tokyo e con il Comune di Gioia del Colle perché la produzione è nata al Teatro Rossini. Quello è un esempio concreto di uno spettacolo che è fatto per tutte le fasce di pubblico, dall'età di sei anni a 99 anni. Ed è uno spettacolo adatto a tutte le fasce sociali. Cioè una persona che non è mai andata a teatro e che magari non ha nessuna cultura umanistica può vedere uno spettacolo di quel tipo e comunque coglierne tutta la bellezza. Perché è concepito in maniera completamente, come dire, diversa dal teatro tradizionale. Per questo si chiama teatro di innovazione. Nel senso che quando vedi uno spettacolo di quel tipo, vieni colpito dalle scene, vieni colpito dalle luci, vieni colpito dalla danza, vieni colpito dal modo di recitare. Quindi si mettono insieme una serie di, come dire, di professionalità che solitamente in uno spettacolo teatrale, per come è inteso lo spettacolo teatrale in Italia, perché all'estero è diverso, difficilmente puoi vedere. Vedere uno spettacolo come la regina delle nevi è un'esperienza. Quella è una coproduzione che ha girato per sette anni, ha fatto migliaia di recite in tutto il mondo, dall'Australia al Giappone, tutta Europa, Inghilterra, Grecia. Ed è esattamente, come dire, il progetto su cui noi lavoriamo tutti i giorni e su cui facciamo i piani economici, i piani finanziari, i piani organizzativi, i piani temporali, perché si ragionano due anni prima, quando fai una coproduzione internazionale. E sapete quanto è difficile in Italia ragionare con tempi così larghi, perché ormai tu sai quello che succede in Italia dopo aver fatto le cose. Questo lo dicevamo ieri, il blocco del patto di stabilità, una serie di altre problematiche. Quindi, impostare un progetto soltanto sulla base che ha il contributo dal Comune, dalla Regione o dal Ministero, è assolutamente sbagliato. Un progetto deve essere fatto perché chi lo realizza ha deciso di farlo. Dopodiché ci si aziona e si trovano tutti i metodi e le modalità con cui si arriva a realizzare il progetto. E il rischio, così come in qualsiasi altra attività impreditoriale, è identico. Cioè io metto dei soldi, del tempo e dell'energia a quel progetto. Se poi sono talmente bravo da anche attirare capitali pubblici o capitali privati, è meglio chiaramente. Però molto spesso non è così. Quindi uno deve essere, come dire, deve avere l'idea e deve essere il primo a scommetterci. Sicuramente se non ci scommetti tu per primo, gli altri non ti seguono, né gli altri colleghi, ma neanche gli enti e neanche gli spettatori. Uno spettacolo ha senso se ci sono spettatori. Se ci sono spettatori, quello spettacolo verrà replicato finché qualcuno entra in teatro, paga un biglietto e vuole vedere quello spettacolo. Nel momento in cui non c'è più un pubblico, quello spettacolo ha esaurito la sua energia. Probabilmente la gente chiede altro. Ma l'artista non è che risponde a una richiesta. Non è che io faccio uno spettacolo perché loro mi hanno fatto una commissione. Faccio uno spettacolo perché è quello che io desidero fare in quel modo lì. Quello è uno spettacolo, vi ho detto, che è una coproduzione internazionale, che ha fatto tantissime recite all'estero e non in Italia. In Italia c'è una divisione abbastanza netta. Io vado a vedere un teatro di prosa la sera e mi aspetto di vedere qualcosa di classico. Questo è uno spettacolo che in Italia è considerato un spettacolo di teatro ragazzi, che dovrebbero andare a vedere le scuole superiori o le scuole medie. Nelle stagioni comunali, nelle stagioni dei teatri comunali, nelle stagioni che voi magari siete andati al Piccini, siete andati qui quando il comune di Andria faceva la stagione, difficilmente vedrete spettacoli di questo tipo. Infatti questa divisione netta di tipologie di teatro fa sì che uno non possa vivere delle esperienze diverse, se non in qualche rarissima eccezione. Questa è una scommessa. Non avendo mercato in Italia noi comunque l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto ed è il secondo spettacolo della trilogia che il Kismet ha dedicato ad Andersen. Perché il primo è stato Belle e Bestia, il secondo è stato La Regina delle Nevi e il terzo è stato La Principessa Sirena. Questo perché non vi volevo soltanto annoiare con le parole facendovi vedere dei documenti, vi volevo far vedere anche qualcosa che vi dimostrasse che cos'è poi il lavoro. Perché altrimenti se si tratta soltanto di riempire moduli, leggere bandi, fare piani economici, fare riunioni, vi posso garantire che io per primo forse sarei andato via dal teatro Kismet dopo due anni. Questo è quello che ti dà il senso di quello che fai. Il secondo video invece, ve l'ho fatto vedere qualche secondo, semplicemente per darvi l'idea di quello che è la partecipazione. Era la presentazione del Maggio all'infanzia di due anni fa. Il Maggio all'infanzia è un festival di teatro ragazzi, dove praticamente si uniscono gli spettatori, i piccoli spettatori, quindi quelli delle scuole, magari voi che siete venuti a vedere uno spettacolo, agli operatori culturali del settore. Perché questo festival è anche una vetrina, quindi tutte le nuove produzioni che le compagnie italiane realizzano nell'abito del teatro ragazzi di quell'anno, durante i festival Maggio all'infanzia, vengono presentate al pubblico e agli operatori culturali. Quindi l'effetto è doppio, perché io produco uno spettacolo, ho l'occasione di farlo vedere ai ragazzi, quindi di capire anche il riscontro, la reazione dei ragazzi al mio spettacolo, e soprattutto di farlo vedere a degli operatori culturali che difficilmente vengono in Puglia, perché considerate che la Puglia è giù nel meridione, quindi se io devo far venire qualcuno da Milano, difficilmente quello ci passa per caso, lo devo far venire apposta. Quindi è l'occasione per far vedere con una replica a 100 operatori nazionali e internazionali lo spettacolo magari se funziona, perché è una nuova produzione, non sempre funziona o non sempre è pronta al debutto, ma se funziona ho colto l'occasione con un'unica replica di farlo vedere e magari di venderlo, perché poi lo scopo non è soltanto quello di realizzarlo, lo devo realizzare, lo devo fare nel migliore dei modi, ma l'obiettivo è quello poi di farlo circuitare, significa farlo andare in giro, farlo andare in giro, poi passiamo ai bandi, però farlo andare in giro, che cosa significa? Facciamo finta che io ho deciso di fare una produzione come la Regina delle Nevi, che cosa devo fare? Innanzitutto mi devo mettere, come ho detto ieri delle riunioni, cioè la parte organizzativa e amministrativa deve mettersi insieme al regista, in questo caso, è capire che cosa vuole fare, con chi lo vuole fare, in che modo e soprattutto a quale mercato si vuole relazionare. Fa una prima riunione, lui spiega l'idea artistica, dopodiché si fa un piano di lavoro, questo piano di lavoro da una parte è molto banale, capisci quali sono i tempi in cui questa cosa deve essere realizzata, come vi ho detto prima, per fare una produzione internazionale, tu lavori due anni prima, inizia a lavorarci due anni prima, perché già nel momento in cui hai deciso di realizzare la produzione, lo fai sapere a tutti gli operatori che conosci e cerchi di farlo sapere a tutti quelli che non conosci. Se i tuoi spettacoli precedenti hanno funzionato, probabilmente l'interesse già c'è nel momento in cui tu hai deciso di fare una nuova produzione, questo ti dà la possibilità già di capire con molto anticipo qual è l'interesse che viene suscitato dalla nuova produzione che decidi di fare. Dopodiché, in base a tutte le informazioni che il regista ha dato al produttore, quindi alla parte organizzativa e amministrativa, si fa un piano di lavoro, si calendarizza tutto e soprattutto si fa un piano economico per capire quanti soldi servono per fare questo progetto e soprattutto un piano finanziario per capire quando questi soldi devono uscire. Dopodiché devo trovare le risorse e se non le trovo le devo mettere io, dopodiché il piano distributivo è essenziale, lavorare 18 ore al giorno per poter vendere quel progetto e far sì che quel progetto abbia una durata tale e una vendita tale che io mi metta nelle condizioni di recuperare l'investimento che ho fatto. Ora, nel momento in cui hai la fortuna di partecipare a un bando, di trovare un contributo, di magari intercettare degli sponsor, questa cosa chiaramente è più semplice, ma quando tu hai l'idea non hai assolutamente coscienza che la parte economica possa svilupparsi con dei contributi che vadano a seguire il piano di lavoro che tu hai definito e vuoi realizzare. Quindi la scommessa per primo la deve fare chi ha deciso di mettere su uno spettacolo. Detto questo, perché ve l'ho fatto vedere? Perché oggi dobbiamo parlare dei bandi, quindi io mi devo immaginare come attraverso un bando, che magari non è esattamente un bando legato al mondo dello spettacolo, però possa realizzare i miei obiettivi. Qui dentro dove siamo? Questo che cos'è? Voi lo sapete che cos'è questo? Questo è un laboratorio urbano, ma ci eravate già venuti? E quante volte lo frequentate? La sera di solito, ma vi piacerebbe ad esempio frequentarlo di più e vi piacerebbe essere protagonisti? Cioè decidere anche voi insieme a chi gestisce questo spazio cosa fare, quando farlo, con chi farlo? Meno male che c'è lui che ha la voce un po' più alta. E voi ad esempio nel momento in cui avete frequentato questo posto avete mai lanciato un'idea a chi lo gestisce oppure magari proposto un progetto per timidezza o perché non avevate idee? Non ho capito. Voi sapete da che cosa nasce l'idea del laboratorio urbano? Allora, questa è una delle idee secondo me più innovative, ha dei grandi punti di forza e dei grandi punti di debolezza, però sicuramente una delle idee più innovative che sono state realizzate in Europa. La Regione Puglia dice, metto dei soldi attraverso, è presente alla Comunità Europea un progetto in cui la Regione Puglia mette dei soldi a cofinanziamento di quello che può mettere la Comunità Europea e dice, prendo dei luoghi di proprietà pubblica in tutti i comuni della Puglia, li ristrutturo, li arredo e li attrezzo in base a dei progetti che i comuni con le associazioni degli stessi comuni ipotizzano, dopodiché lo faccio gestire a chi si candida per gestire questo spazio e soprattutto è destinato ai giovani. Cioè, questi spazi sono vostri, questi spazi sono stati ristrutturati, attrezzati e arredati, con dei soldi di tutti e sono destinati ai giovani. Perché vi sto dicendo questo? Perché la consapevolezza che ci siano qualche volta anche delle politiche pensate su dei ragazzi che solitamente non hanno degli spazi dove vedessi e fare delle cose, perché vedessi per farsi una chiacchiera si può fare dove vuole, avere uno spazio giusto per poter fare quello che vi garba, che vi piace. Io ho detto ieri fare esperienze è assolutamente necessario perché magari scoprite di avere dei talenti e non li avete mai messi in pratica e magari poi vi troverete dietro una scrivania a fare un lavoro noiosissimo e starete lì a sbuffare dalla mattina alla sera, non sarete contenti perché state facendo un lavoro che vi serve soltanto per arrivare alla fine del mese, quando qualcuno ha la possibilità di pagarvi uno stipendio. Allora, laboratorio urbano uguale politiche giovanili uguale autoimprenditorialità, cioè scommettere su se stessi per poter realizzare un progetto. Chiaramente noi qui stiamo ragionando di progetti culturali, progetti artistici, ma ad esempio quanti di voi hanno fatto 18 anni? Nessuno. Quanti di voi faranno 18 anni entro 2015-16? Tutti. Ok. Allora dovete sapere, perché questa è la prima cosa, per fare l'imprenditore, anche il piccolo imprenditore, la ditta individuale è fatta di una persona che dice mi apro una partita IVA e faccio questo lavoro, faccio il vetrinista, faccio gli allestimenti, faccio i video, potrei fare pure l'attore, mi apro una partita IVA per fare l'attore, oppure mi faccio scritturare, ieri vi ho spiegato che significa firmare un contratto, essere assunto da qualcuno e poi ricevere una busta paga e quindi uno stipendio. Quando uno decide di fare una cosa, anche nel momento in cui non percepisce uno stipendio, se decide di lavorare su se stesso, innanzitutto deve avere una buona idea. Seconda cosa, deve iniziare ad attrezzarsi per conoscere quali sono le possibilità che ha. Io ogni mattina dopo il caffè, quando entro in ufficio, mi guardo una ventina di siti dove ci sono sempre, vengono presentate delle opportunità. Opportunità significa banalmente dei progetti, dei bandi. Un sito che voi dovete frequentare sempre, vista l'età, è il sito di Bollenti Spiriti. Bollenti Spiriti è praticamente una linea di finanziamento della regione Puglia, attuata dall'assessorato alle politiche giovanili, destinata ai giovani. Tra i 18 e i 35 anni, quindi avete 17 anni ancora davanti per poter fare una cosa del genere. Questo sito è il sito dedicato proprio a voi. Ad esempio sono stati pubblicati diversi bandi, tipo Principi Attivi. Principi Attivi è un bando destinato a gruppi informali di ragazzi che hanno un'idea, la vogliono praticare, presentano un progetto e possono anche, se ci riescono, riuscire ad avere un contributo a fondo perduto. Fondo perduto significa che io ti do dei soldi e non me li devi restituire, li devi spendere semplicemente per realizzare il progetto e può essere anche un contributo che può arrivare a 25 mila euro. Queste sono occasioni che quelli come me non hanno mai avuto in precedenza rispetto a questo tipo di progettualità. Voi, se siete attenti e siete bravi, potreste riuscire a intercettare questi fondi. Quella è una delle linee. Un'altra linea è quella dei laboratori urbani, che è quella che vi ho spiegato prima. Adesso, cioè ora, c'è un bando, si chiama mettici le mani. Mettici le mani, che cosa significa concretamente? mettere le mani su qualcosa e farla diventare propria. Ed è destinata proprio ai ragazzi che hanno meno di 35 anni, che hanno un'idea e che vogliono, come dire, cogestire insieme a chi poi sta gestendo i laboratori urbani, concretizzando quest'idea e facendo sì che lo spazio sia uno spazio che è viva. Ma sulle vostre idee, perché magari noi che siamo un pochino più anzianotti, non ci rendiamo conto di quali siano le vostre esigenze e non abbiamo, o per pigrizia, o per mancanza di tempo, o semplicemente per abitudine, l'idea di metterci intorno a un tavolo. Le occasioni sono molto poche. Quante volte capita di mettersi intorno a un tavolo e ragionare su un progetto che voi potreste realizzare, che è anche coperto economicamente, che magari può costruire anche il lavoro. Quindi l'abitudine che voi dovete avere, non appena vi diplomate, ma io vi dico di farlo da oggi, è quello di iniziare a capire quali sono le fonti di informazione per poter capire se avete delle possibilità oppure no. Non tutti hanno il capitale per poter investire. Magari c'è qualcuno che ha una famiglia alle spalle che gli può garantire un capitale, quindi una start-up. Qualora non ci sia, ci sono dei fondi adeguati. Quindi il bando che noi andiamo a studiare oggi è strutturato su questo posto e su di voi, sulle associazioni locali che hanno al loro interno una maggioranza di under 35 e che vogliono attivare dei progetti all'interno dei laboratori urbani, che abbiano una durata di un anno. Ora, io lo so che purtroppo non si legge benissimo. Perché c'è della luce? No, no, sì, lasciamo così anche perché vi leggerò i punti più importanti. Io sono andato nel sito di Bollenti Spiriti, vai nel sito di Bollenti Spiriti, Regione Puglia, ho iniziato a guardare. Oggi hanno pubblicato il bando Mettici le mani. Questo bando è stato pubblicato all'inizio novembre. E dico, perché il filtro, chi lo fa? La parte organizzativa. Non la fa mica la parte artistica. Vi immaginate un musicista, un teatrante che si mette a leggere i bandi, a parte il fatto che probabilmente capirà il 10% di quello che c'è scritto, ma sicuramente non è il suo lavoro. Un imprenditore culturale se non lo fa da solo, cioè se un attore non ha una parte organizzativa che lo faccia, lo deve fare lui, ma quando c'è una parte organizzativa è il compito della parte organizzativa. Quindi il mio lavoro è, oltre tutto il resto, trovare appunto quelle occasioni da non perdere. Quindi io vado tutti i giorni su questi siti, mi vado a leggere che cosa è stato pubblicato, scopro oggi che sta nel sito di Bollenti Spiriti il progetto Mettici le mani. E inizio a leggermelo, perché magari è coerente con quello che noi facciamo tutti i giorni e magari può concretizzare qualche idea che io ho in mente, perché la parte artistica mi ha detto mi piacerebbe fare questo, oppure scopro che questo progetto è assolutamente inutile e non è coerente con quello che io faccio e lo lascio perdere. Quindi sono entrato nel sito di Bollenti Spiriti e scopro che hanno pubblicato il bando Mettici le mani. Questa è la presentazione, ve la leggo perché non si legge nulla sullo schermo. È iniziato tutto da un'idea semplice. Ai giovani servono spazi per esprimersi, per sperimentare, per imparare non solo nelle aule ma anche sul campo. Le nostre città, abbiamo pensato, sono piene di edifici inutilizzati, molti sono pubblici, cioè di tutti noi, quindi anche vostri. Opifici dismessi, palazzi storici in abbandono, ex scuole, ex matatoi, ex mercati. Questo che cos'era prima di essere ristrutturato? Era un ospedale. Questa grande risorsa potenziale può tornare a vivere se la mettiamo in relazione con la creatività e l'energia delle nuove generazioni. Allora abbiamo chiesto ai comuni pugliesi di immaginare un progetto, uno per città, per trasformare un vecchio immobile di loro proprietà in un laboratorio per i giovani. Il bando è uscito nel 2006, lo abbiamo chiamato Laboratori Urbani. Così è nata la prima azione di Bollenti Spiriti, programma della Regione Puglia per le politiche giovanili. Sono passati otto anni e nel frattempo il mondo è cambiato. Quello che sembrava un'idea eccentrica è diventata una prassi, sempre più diffusa in tutta Europa. Un po' ovunque la creatività e l'innovazione riempiono gli spazi lasciati da un vecchio modello di sviluppo e ovunque sono i giovani a guidare questo processo. Dalle macerie della crisi nascono i semi di un nuovo modo di imparare, creare, lavorare, intraprendere. E qui in Puglia cosa è accaduto nei laboratori urbani che sono nati in tutta la Regione? Questa è la domanda e da qui poi parte tutta una relazione. Allora in questo momento in cui non ci sono, c'è la crisi internazionale, voi la sentite spessissimo probabilmente quando vedete il giornale oppure quando vi capita di sfogliare un quotidiano, c'è la crisi internazionale. I fondi europei sappiate che nelle regioni meridionali ma anche in Puglia fino ad ora sono sempre stati destinati ad altro. La maggior parte dei fondi sono stati destinati ad esempio alla sanità. Poi comunque voi sapete, magari non ci siete fortunatamente ancora mai capitati, che gli ospedali funzionano o non funzionano. Perché i progetti quando vengono presentati non vengono mai ragionati. L'abitudine di tutti, di tutti è quella, c'è un fondo, io partecipo a prescindere se la cosa è utile o no, dopodiché mi servono soldi, magari poi nascono le catedrali nel deserto. Il rischio che i laboratori urbani fossero delle catedrali nel deserto è tuttora altissimo. Perché è vero che ti hanno ristrutturato un edificio, è vero che te l'hanno redato e te l'hanno attrezzato, però ad esempio uno dei punti di debolezza dei laboratori urbani è che il tempo, da quando è nata l'idea a quando poi il progetto finalmente era pronto e quindi pronto alla consegna, era talmente ampio che una cosa semplicissima come le attrezzature tecnologiche. Immaginatevi nove anni fa, otto anni fa, quando i progetti sono stati scritti, non esistevano dei computer come ci sono adesso, non esistevano dei mixer come quelli che esistono adesso. Quindi che cosa è successo? Che molti laboratori urbani sono praticamente da quando è stato bandito il progetto dalla regione, nel 2005, nel 2006, sono stati aperti nel 2013, nel 2014. Un lasso di tempo enorme rispetto ad esempio alle tecnologie, ma anche rispetto alle idee progettuali, perché quello che poteva avere un senso otto anni fa non ce l'ha assolutamente adesso. Il mondo ormai cambia velocemente. C'è una cosa però che a vostro vantaggio è dire al nostro svantaggio. Avere un'informazione oggi per voi è molto più facile rispetto a dieci anni fa, vent'anni fa. Adesso se vai su internet hai la possibilità di trovare innanzitutto degli esempi positivi da tutto il mondo e capire se magari quell'intuizione potrebbe diventare una base di ragionamento di quello che io so fare e che mi piacerebbe fare. Dopodiché trovare questo tipo di progettualità in maniera molto semplice e diretta. Prima, quando veniva pubblicato un bando, veniva messo sulla gazzetta ufficiale e o uno era del settore e sapeva, magari andava alla regione un giorno sì o un giorno no e sapeva che era stato pubblicato il bando ed era un bando che poteva interessarlo, oppure la maggior parte delle persone assolutamente non ne sapevano nulla. Questa trasparenza e questa velocità del reperire un'informazione per voi è un vantaggio enorme che però dovete sfruttare. Sfruttare però significa investire del tempo. Investire del tempo significa che magari anziché vedessi un telefilm in tv, uno dice dedico un'ora della mia giornata, mezz'ora della mia giornata a guardarmi quei siti perché vi posso assicurare che inizi con un sito e poi inizi a scoprire quali sono pian piano gli altri interessanti. Perché gli altri ce ne sono tanti altri, però oggi parliamo di questo. Perché presentarvi un bando che a voi non interessa sarebbe stato assolutamente inutile oggi. Deve essere un bando che potrebbe essere magari assolutamente nelle vostre corde, perché questo spazio è vostro, finanziato da tutti, ma è soprattutto vostro. Non è importante chi lo gestisce, chi lo gestisce soprattutto deve tener cura degli spazi, della manutenzione, delle pulizie, il fatto che funzioni tutto. Magari ha anche una vocazione artistica, magari ha anche una vocazione artistica e può proporre, ma qualora non ce l'abbia o non ne abbia indirizzate a voi, le dovete proporre voi. Ora, questa è l'introduzione, dopodiché si passa alle cose più concrete. Aspetta che, ecco qua. Buone pratiche. Cioè, sì. Allora, ci sono due livelli diversi. Questo è un bando in cui uno, poi lo leggeremo per bene, io lo conosco, quindi vi posso anticipare qualcosa. Questo è un bando in cui un gruppo di persone che debba avere più di 35 anni, la maggioranza deve avere più di 35 anni, in un'associazione, nel consiglio direttivo ci devono essere ragazzi che hanno meno di 35 anni, la maggioranza, ok? Presento un progetto, lo costruisce insieme al gestore, perché chiaramente quel progetto deve essere realizzato qui dentro, non è che io mi immagino di fare una cosa che qua dentro non si può fare. Se voi vi immaginate di fare un laboratorio di scenografia e non ci sono gli spazi per poterlo fare, è inutile pensarlo. Quindi si condivide l'idea progettuale col gestore, si costruisce il progetto, il gestore dà il suo ok, insieme si va al comune che a sua volta, perché è proprietario, è proprietario degli spazi, dà il suo ok e si presenta alla regione. Questo è un livello, ed è un livello più complesso, perché stiamo parlando comunque di un bando di gara, non è un bando complicatissimo, perché chiaramente è rivolto ai giovani, però è un bando di gara comunque, anche perché tu soffrisci di finanziamenti europei che poi deve essere pure in grado di rendicontare. Rendicontare significa, è come quando vai a fare la spesa, tua madre ti chiede di andare a fare la spesa e dice portami lo scontino così non mi fai la cresta. Questo significa rendicontare, allora tu porti la spesa e consegni lo scontino a tua madre, se tua madre ti ha dato 30 euro e ne spesi 25, ne dovresti restituire 5. E poi verifica, ma quello che io ti ho detto è quello che hai comprato? Quindi i documenti che tu presenti a rendicontazione devono essere coerenti con quello che era l'idea progettuale, quindi l'elenco della spesa. Sto facendo un esempio banalissimo, però se tu non porti lo scontino, tua madre non sa quanto è spesa e tu gli 5 euro ti sei messo in tasca. Questo come si evita? Con una rendicontazione di quello che hai fatto e che sia coerente con quello che hai detto. Cioè io voglio fare un laboratorio di scenografia, probabilmente avrò costi di materiali, costi di docenze, di professionisti del settore, certamente non avrò costi di altro tipo, perché se ho con quei soldi fatto un'altra cosa qualcuno mi dice, tua madre ti dice non hai comprato la cartigenica, hai comprato la cioccolata te la paghi tu. E l'esempio è identico, il fatto di fare la cresta quando si fa la spesa è esattamente quello di non realizzare il progetto che io ho pensato e ti ho presentato e mi voglio mettere i soldi in tasca facendo un'altra cosa. Non è così che funziona. Qui ci sono delle buone pratiche perché i laboratori urbani, come abbiamo detto prima, sono partiti moltissimi anni fa. Alcuni sono partiti quasi immediatamente nel giro di un anno, sono riusciti a fare un progetto, ad avere i soldi, ristrutturare gli spazi e partire. Quindi alcuni sono partiti anche nel 2006-2007, altri non sono ancora partiti ad oggi. Questo ad esempio è un laboratorio urbano che mi dicevano che è partito al marzo dell'anno scorso, di due anni fa ormai, del 2013. Allora la regione ti dice, vi faccio degli esempi di quelli che sono i migliori laboratori urbani finora gestiti nella regione Puglia e vi faccio capire quello che io voglio. Quindi vi dà anche degli indirizzi, vi dà anche delle visioni da perseguire. Allora, buone pratiche dei laboratori urbani è una rassegna di esperienze e soluzioni sperimentate in questi anni all'interno dei laboratori per i giovani, nati in Puglia con il supporto del programma Volenti Spiriti. Che cosa dice? La rassegna è organizzata in base alle sei caratteristiche di un laboratorio urbano, di qualità individuata nel piano Volenti Spiriti 2014-15 e ti fa un elenco. Stabilità, apertura, vitalità, trasparenza, sostenibilità economica, missione sociale. Stabilità, che significa? Perché uno di stabilità all'interno di un laboratorio urbano? Allora, il sito è Volenti Spiriti, il supporto è Comunità Europea, Regione Puglia, Comuni. Comunque ragazzi, voi avete lasciato tutti gli indirizzi di posta elettronica. Io poi manderò documenti e anche i link, e anche di questo, a loro, in maniera tale che il teatro sospeso vi possa girare questi documenti qui. Alcune cose magari non vi interesseranno e le cestinerete, altre cose invece magari vi sono utili, tipo questo link e ve lo andate a studiare. Vedrete che io salterò molte pagine, perché altrimenti non bastano sei ore, se ne vorrebbero sessanta, però questo è quello che vi dicevo prima, dedicare un'ora al giorno, mezz'ora al giorno a queste cose qui è fondamentale, ma magari non è fondamentale oggi, ma lo è fondamentale a livello mentale, perché forse non è il bando giusto e lo scoprite mentre lo leggete, però dovete sapere che qualsiasi cosa voi facciate nella vita, se volete direzionarla a quello che vi piace di più, lo dovete fare così, perché nessuno viene a citofonare, a me non è mai capitato che uno venga a citofonare e dice Vincenzo, ho 20.000 euro, vuoi fare questa cosa? Vuoi fare questo lavoro, c'è un posto? Non è così. Ma nel sito degli spiriti ci sono bandi della regione Puglia, un po' con... Ci sono bandi della regione Puglia sicuramente, ma ci sono anche delle comunicazioni afferenti ad esempio al Ministero della Gioventù, quando ci sono dei bandi anche legati a quelli. Allora fa da tramite appunto tra tutto quello che succede a livello nazionale e internazionale è quello che poi sono i giovani pugliesi. Su quel sito poi ci sono anche una serie di link di altri siti dove ci sono anche delle altre possibilità, cioè ci sono ad esempio dei bandi regionali che non c'entrano nulla con le politiche giovanili in sé, però ad esempio c'è il progetto Nidi che è un altro bando per i giovani, oltre che per i disoccupati, oltre che per chi in questo momento non ha un lavoro inoccupati e quant'altro, per le fasce svantaggiate. Sappiate che per la comunità europea l'essere donna meridionale significa essere già svantaggiata. Per un uomo è un po' diverso, anche se ormai non c'è più molta differenza. Però ripartiamo da qui, perché poi quando uno legge deve capire che cosa significa esattamente quello che legge, perché poi il progetto che deve costruire deve essere coerente con quelle che sono le linee. E questo è l'investimento di tempo che uno ci deve mettere. Praticamente per quanto riguarda i documenti, siccome Arti, mi diceva adesso Annalisa, l'Arti che è l'associazione, la società che sta gestendo questo bando di laboratori dal basso, che noi abbiamo vinto, loro prima pubblicheranno tutta la documentazione o le slide che un insegnante usa, lo pubblicheranno sul sito di laboratori dal basso, ma noi attualmente non possiamo mandare nulla perché lo dobbiamo mandare prima a loro, loro valutano e poi pubblicano quello che dicono loro praticamente. Quindi non possiamo girarle noi le mail. Va bene, però posso dire che il sito è www.volentispiriti.it. Ok, segnatevelo. No, va benissimo, va benissimo. Allora, ripartiamo, perché in queste cose c'è anche una risposta, perché io ho detto ci sono due possibilità, quello ufficiale che è quello del bando e poi ce ne sono altre. Stabilità, apertura, vitalità, trasparenza, sostenibilità economica, missione sociale, stabilità. Che cosa significa stabilità? Che chi gestisce uno spazio, un attimo solo, chi gestisce uno spazio come questo, perché vi posso assicurare che non è semplice, cioè già gestire una casa è complicato, immaginate uno spazio così ampio dove potenzialmente tutti i giorni dovrebbero entrare decine e decine di persone. Quindi significa avere una stabilità professionale che ti dia la garanzia e la possibilità di rispondere a tutte le esigenze che un posto come questo poi ha, dal punto di vista di manutenzione, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista igienico, dal punto di vista della sicurezza. e questo significa, come dire, avere un gruppo di persone che sia in grado di farlo e poter potenzialmente riuscire anche a sostenere i costi del personale. Apertura, se uno spazio è aperto, cioè banalmente uno spazio che apre una volta al mese è un punto di riferimento per una comunità. Se una biblioteca, un teatro, un locale non apre quasi tutti i giorni, non dico sempre, ma quasi tutti i giorni, probabilmente non nasce neanche l'abitudine a frequentarlo e non nasce neanche poi l'esigenza. Uno deve avere l'esigenza, quando gli piace un posto probabilmente ci va molto spesso, non è che si chiede ma è aperto e chiuso. Uno spazio aperto ai giovani deve essere, come dire, aperto il più possibile e soprattutto nelle ore in cui i giovani non vanno a scuola, perché se è aperto dalle 8 alle 2 tutti i giorni è assolutamente inutile rispetto alla vostra fascia. Deve essere aperto potenzialmente dalle 17 in poi. Voi finite di studiare e quando uscite decidete di frequentare il laboratorio urbano e di fare delle attività che quel laboratorio urbano vi propone, oppure che voi avete proposto vitalità. Esattamente questo, la vitalità è non subire passivamente le decisioni di qualcun altro, ma anche proporre. Cioè io ho avuto un'esperienza, mi è piaciuto, questo posto secondo voi è bello e vi piacerebbe dire ragazzi noi siamo 10, ci piacerebbe fare un laboratorio di fotografia, non l'abbiamo mai fatto, ci dai qualche dritta, lo costruiamo insieme un progetto? Questa è la vitalità, cioè scambiarsi continuamente i pensieri e magari uno più uno non fa due ma fa tre, perché da una tua intuizione, dall'intuizione di qualcun altro può nascere qualcosa che da soli, perché da soli ormai non si può fare più niente. Dimmi. Allora io devo dire, per esempio io do la possibilità, diciamo, do l'idea del progetto, questo progetto deve essere finanziato da me oppure... Allora questa è una risposta che darò perché è molto simile alla domanda di prima, siccome ci siamo per arrivare, perché ci sono vari livelli per fare le cose, trasparenza e qui arriviamo un pochino a rispondere. Io gestisco quattro laboratori urbani, cioè il chisme gestisce quattro laboratori urbani. Gestisce significa che non è proprietario, non è casa mia e quindi invito chi voglio, a lei le invito a cena, a lei mi sta antipatica, non le invito mai. Siccome è un luogo pubblico, di proprietà pubblica, che è stato ristrutturato con economie pubbliche, quindi di tutti, con attrezzature che sono state acquistate con economie pubbliche, quindi di tutti, e aredato con economie pubbliche, quindi di tutti, questo posto deve essere gestito in maniera trasparente. Negli altri laboratori urbani, io non so come funziona questo, proprio per garantire la trasparenza, noi abbiamo fatto un avviso pubblico che è sempre aperto, cioè chiunque voglia candidare una progettualità al laboratorio urbano, lo può fare in qualsiasi momento, lo può fare in qualsiasi momento. Noi ad esempio abbiamo questo avviso pubblico che è sempre aperto, ogni tre mesi valutiamo tutte le proposte che ci sono arrivate. Innanzitutto chiediamo a chi propone l'idea di far parte del gruppo di rete, in maniera tale che ogni qualvolta viene convocato il gruppo, che ormai ad esempio a Martina Franca, noi gestiamo il laboratorio urbano a Martina Franca, è un gruppo ormai di oltre 100 associazioni e quindi lui può essere informato, perché entra nella mailing list anche, di tutto quello che succede. Allora innanzitutto gli chiediamo di firmare un protocollo di rete, dopodiché convochiamo chi ci ha fatto la proposta e capiamo se questa proposta è fattibile oppure no, ma lo capiamo insieme perché magari scopri che correggendo alcune cose la cosa si può fare. In che termini che cosa significa fattibile? Perché poi lo dice dopo. Sostenibilità economica e missione sociale. Allora qualsiasi cosa uno faccia deve avere almeno uno di questi tre livelli, o lo faccio per i soldi perché devo campare, quindi è il mio mestiere, o lo faccio per una visione sociale, perché fa bene a me ma fa bene a tutta la comunità, oppure lo faccio per una questione culturale. Se non c'è nessuna di queste tre, una cosa per quanto mi riguarda è probabilmente inutile. Quindi ci mettiamo a tavolino, tu con la signora mi avete presentato un'idea, mi avete detto guarda a noi piacerebbe fare questa cosa. Iniziamo a fare una valutazione proprio pratica. Innanzitutto questa cosa è realizzabile all'interno di uno degli spazi? Ok, considerate che i progetti dei laboratori urbani hanno nella gestione una gestione pluriennale, quindi probabilmente anche questo sarà gestito per quattro anni, per cinque anni, è una start up, quindi economie soltanto per il primo anno di attività. Quindi se nel primo anno di attività il gestore può, come dire, sostenere anche oltre alla gestione una parte di progettualità, dal secondo anno tutte le attività che vengono fatte si devono sostenere economicamente. Due sono le possibilità, le abbiamo detto ieri. Sostenere economicamente significa, ok, non ci sono soldi, lo dobbiamo fare sulle nostre forze. Nostre forze non significa che uno non ci sta scommettendo qualcosa, perché perdere un'ora di tempo al giorno significa sottrarre quel tempo ad altro. Quindi è un investimento comunque. Anche se voi faceste qui dentro un'attività assolutamente gratuita, significa che c'è un gruppo di persone che sta investendo del tempo. Il tempo è denaro, la mente e le energie delle persone sono denaro, quindi gratuitamente perché non c'è uno scambio di soldi. Però il valore di quella cosa ha anche un valore economico. Oppure ci sono i soldi, come si possono recuperare questi soldi? Prima abbiamo fatto un esempio banalissimo, laboratorio di fotografia. Ci sono dieci ragazzi che dicono, siccome noi abbiamo questo desiderio, noi potremmo mettere 20 euro al mese per partecipare a un laboratorio. E magari quei 20 euro coprono i costi del docente che si deve spostare, oppure che viene a farvi la docenza. E coprono anche quei costi di promozione che servono poi per far sapere anche ad altri che quel laboratorio c'è. Perché magari da 10 ragazzi iniziano ad essere 20, iniziano ad essere 30. E quindi hai più economie e quindi quel progetto può funzionare sempre meglio. Ok? Detto questo, quando dice trasparenza significa che siccome quello è un bene di tutti, ed è un bene che è stato appunto, ha avuto dei soldi di tutti, chi gestisce quello spazio lo deve fare in maniera trasparente. Quindi voi dovete sapere che cosa sta succedendo e cosa non sta succedendo. È chiaro che uno non lo fa con il proprio ruolo, perché non è che tutti, bisogna essere democratici, ma non bisogna essere stupidi. Non è che tutti devono dire la loro in qualsiasi momento, non è che se a te non piace una cosa che viene fatta al laboratorio diventa un motivo di, come dire, di confronto, perché la cosa è soggettiva, però deve funzionare. Se funziona fa bene a tutti, magari il laboratorio di fotografia a loro piace, a te no, ma non è che dovresti stare a contrastare il laboratorio di fotografia. L'importante è che ci siano anche, come dire, c'è la trasparenza, tu lo sappia che c'è quel laboratorio e magari sai quali sono le modalità per presentare un progetto qui dentro, perché non deve essere un rapporto personale, deve essere un rapporto comunque trasparente. Un laboratorio urbano di qualità è il risultato della collaborazione stabile, leale e continuativa tra l'ente locale, proprietario dello spazio, e un soggetto gestore motivato e competente. L'amministrazione, in questo caso il comune di Andria, deve aver affidato la gestione del laboratorio urbano ad un'organizzazione privata attraverso una procedura di evidenza pubblica, un bando. Cioè non è che io sono il sindaco del comune di Andria, chiamo la professoressa che conosco, magari pure una parente, gli dico senti, c'è questo spazio, vieni e gestiscilo. No, ci deve essere un bando, tutti lo devono sapere, più gente possibile lo deve sapere e magari non solo la professoressa, ma anche lui, lui, la signora decidono di candidarsi per poterlo gestire. La convenzione per la gestione deve avere una durata di almeno 5 anni per consentire al soggetto gestore di investire tempo e risorse nella valorizzazione dello spazio. Perché si parla di pluriennalità nella gestione? Vi ho letto prima che questi bandi prevedono uno start-up, cioè all'inizio ti do tot soldi in maniera tale che tu possa iniziare a utilizzare quello spazio con una tranquillità economica. Dopodiché, quindi nei quattro anni successivi, tu devi essere stato talmente bravo da far sì che tutti i costi che sostieni per aprire questo spazio siano coperti. Allora, o uno è un genio e idee così innovative da riempire questo spazio dalla mattina alla sera di tantissime attività dove ci sono tantissime persone che spendono dei soldi da fare questo, oppure deve costruire una rete, deve mettersi insieme ad altri e capire quali sono le potenzialità che questo spazio ha e quali sono i desideri che poi chi deve partecipare all'attività ha. Ecco perché parliamo di trasparenza e possibilmente di condividere le progettualità e soprattutto voi dovete avere la forza di proporre, magari su dieci idee ce ne saranno nove che fanno schifo perché capita, è così, ma ce n'è una geniale e magari scoprite che l'avete avuta solo voi e solo Andia può presentare una cosa del genere. Queste sono le premesse, poi leggeremo il bando e capiremo che cosa significa parola per parola quello che viene detto in un bando per non rischiare di scrivere delle cose diverse da quelle che loro ti chiedono o di presentare dei documenti diversi da quello che l'ente ti chiede e questo è quello che dicevamo ieri, cioè saper leggere un bando significa parola per parola, frase per frase capire esattamente che cosa ti chiede il soggetto che ha pubblicato il bando e oggi pomeriggio dopo aver letto il bando simuleremo da un punto di vista organizzativo e gestionale quell'idea che può essere presentata a un laboratorio urbano come questo, come si dovrebbe concretizzare. L'amministrazione e gestore devono valorizzare l'investimento pubblico creando sinergia e integrazioni con altre attività comunali e servizi complementari, che significa, guardate è una banalità però vi posso assicurare che non lo fa nessuno in Italia e soprattutto da noi, se ci sono quattro luoghi o quattro progetti nel comune di Andria il fatto di saperlo e il fatto di incontrarsi probabilmente, sicuramente elimina una serie di problemi che solitamente ci sono. Non so se è mai capitato qui, ma a Bari è capito spessissimo, ma ho capito che capita anche ad Andria, magari ci sono dieci attività all'anno e quelle dieci vengono fatte tutte negli stessi giorni, questo perché chi la pensa non si confronta con il suo territorio e non calendarizza semplicemente le cose in maniera tale che voi avreste la possibilità di vederle tutte e dieci, di partecipare a tutte e dieci, invece molto spesso siccome chi le idea non ci ragiona con i suoi colleghi, alla fine c'è un problema che sembra una banalità, ma è risolvibilissimo soprattutto in comuni piccoli. Capita che tu hai lo spettacolo di teatro una sera, il concerto, il laboratorio urbano fa un'altra attività, tu devi decidere dove andare. O è concorrenza sleale. O è concorrenza sleale. È evidente che se io sto organizzando il concerto di Giovanotti al palazzetto dello sport, tutti gli altri si adeguano. Io ho una potenza, concorrenza sleale, io ho una potenza di fuoco perché sto facendo una cosa che probabilmente è molto più forte di quelle che possono proporre gli altri. Di solito però queste cose, quello è il mercato, il libero mercato. Però quando si fanno progetti di questo tipo è stupido pensare di fare un altro progetto identico, quasi, da un'altra parte allo stesso giorno alle stesse ore. Voi dovreste avere la possibilità di partecipare a uno e all'altro. La mamma degli stupidi è sempre incinta. Il soggetto gestore deve garantire la stabilità e la crescita del gruppo di lavoro che opera negli spazi, cercando di limitare il turnover e garantendo un rapporto equilibrato tra uno staff di operatori stabili, collaboratori saltuari e gli eventuali volontari. Questa è un'altra cosa che sembra una banalità, ma se io inizio a frequentare un posto, scusate io poi guardo sempre quelli che stanno davanti, inizio a guardare anche quelli che stanno dietro perché così... Allora se io inizio a frequentare un posto mi piacerebbe che questo posto abbia come dire dei punti di riferimento e che siano quelle le persone con cui io condivido le idee e ne parlo. Ogni volta che tu vai in un posto c'è una persona diversa, probabilmente anche quella intimità nella relazione, avere lui come punto di riferimento e la tranquillità di potergli dire delle cose, viene meno. Il fatto di sapere che io vengo qui e trovo sempre, che ne so, Domenico, che è un mio punto di riferimento, diventa anche una guida perché tutto quello che viene immaginato ha comunque un unico canale e il fatto che lui sia qui cinque giorni su sette è una garanzia per voi anche per poter avere, come dire, una velocità nel ragionamento dell'idea che vi viene in mente. Se lui fosse ogni giorno, non lo so, se ogni giorno non ci fosse lui, ma un giorno c'era lui, un giorno c'ero io, un giorno c'era la professoressa, un giorno c'era lei, è chiaro che tu che vieni tutti i giorni e dici, vabbè, ma con chi devo parlare? Questo è, come dire, anche questo è banale, ma vi posso garantire che pure questa cosa qui è difficile. Lì parla di gruppi di lavoro, i gruppi di lavoro dovreste essere voi che frequentate questo posto, che proponete delle idee o che semplicemente partecipate a delle attività e che magari dite, guarda, mi è venuta un'idea, ma perché non metti una tendina lì sopra? Chiaramente quando hai le economie per poterlo fare, perché così quando noi mettiamo un video non abbiamo la luce contro, riusciamo a vedere quello che c'è, è un'altra banalità, però se non c'è un confronto continuo e soprattutto non c'è un punto di riferimento, voi lo avreste detto oggi alla persona che gestisce il laboratorio urbano? No, magari se per un mese frequentate spesso questo posto c'è anche un rapporto molto più diretto, allora quello è un consiglio, ma così come voi potete dire, ma qui noi potremmo fare, non so, nella vostra scuola ci sono ragazzi che suonano, è perché questo non potrebbe essere un posto dove loro possono iniziare a far vedere a un pubblico quello che sanno fare, un pubblico di amici, perché così si inizia, però voi da amici e anche spettatori dovete avere la, dovete essere come dire, dei critici, dovete dirgli questa cosa funziona, questa cosa no, perché se non glielo dite voi, lo spettatore comune non glielo dice, però non torna più a vedere il suo concerto, cioè la critica costruttiva, quella della tendina e quella anche di una manifestazione culturale. Allora, convenzione, tutti i laboratori urbani hanno una convenzione con i comuni in cui gli stessi laboratori sono presenti, poi ci sono degli esempi di laboratori urbani, ce ne sono praticamente un centinaio in tutta la Puglia, un centinaio in tutta la Puglia significa che ogni comune ha almeno uno spazio di, quasi ogni comune ha almeno uno spazio di vita laboratorio urbano. Vi faccio degli esempi concreti, ad Alberobello, attraverso l'utilizzo di prodotti usati, di scarti dei materiali fieristici, i gestori hanno attrezzato un angolo bar e uno spazio di creativo, migliorando la sala eventi e trasformandola in una sala per concerti e spettacoli teatrali. Questa cosa, ad esempio, l'abbiamo fatta anche noi a Martina Franca, ed è funzionale perché tu hai i soldi per costruire, avete mai allestito un negozio? Cioè se tu dovresti, come dire, come fa qualsiasi imprenditore, chiamare la ditta che ti deve costruire un bar, servono 50 mila euro soltanto per costruire un bar. Noi, e quello è un esempio identico, abbiamo costruito un bar esattamente con i materiali di riciclo, partendo dalle cassette della frutta, quelli sono i nostri piani di appoggio dove mettiamo le bottiglie, ci è costato 327 euro, me la ricordo benissimo questa cifra, e l'abbiamo fatto attraverso un laboratorio con i ragazzi, questo è importante, cioè non è che l'abbiamo fatto noi che lo sappiamo fare, non è che ho chiamato il mio scenografo e basta, ho coinvolto la comunità facendo un laboratorio di costruzione attraverso materiali riciclati con i ragazzi che volevano partecipare a un laboratorio di quel tipo. Luc di Manfredonia, che non è molto lontano da qui. Alcune aree sono state riorganizzate e redate per dare vita a uno spazio di co-working o per la creazione di nuove sale e prove, sale e prove musicali. Co-working, sapete che cosa significa co-working? Esatto. Ma tu volevi farmi una domanda? Scusa, io prima ti ho stoppato e me ne sono dimenticato. Dimmi, dimmi. In questo caso sono pugliesi, sono pugliesi, comunque poi quando leggeremo il bando c'è scritto anche. Altri bandi invece, siccome sono aperti a tutti. Sono nazionali. Sinergie, un elemento importante per favorire la stabilità di un laboratorio urbano, è un rapporto di stretta collaborazione tra il soggetto gestore e l'ente locale, proprietario dell'immobile. Ora, che significa questa cosa? E vi parlo da chi gestisce dei laboratori urbani. Gestire uno spazio di proprietà comunale è complicatissimo, perché non è che io decido di smontare quella scala, la smonto e basta. È di proprietà del comune. Quindi io devo chiedere al comune se posso farlo, spiegargli perché e aspettare l'autorizzazione. Quindi quando vi dico che è una responsabilità, non solo per chi lo frequenta, ma anche rispetto al fatto che i beni, le attrezzature, gli arredi sono di proprietà di qualcun altro. Quindi non è che io decido di buttare queste sedie e comprarne degli altri. Uno dei problemi più, come dire, enormi dei laboratori urbani è che quando sono stati progettati, probabilmente, siccome sono stati progettati nel 2003, sono stati realizzati nel 2010 o 11 o 12, non ci si è resi conto che forse parte di quelle cose che erano state immaginate nel 2003, non erano più adatte quando quel laboratorio partiva. Quindi, ad esempio, si sono comprate delle sedie come queste, che sono molto belle, però forse non sono adatte a uno spazio così. Così come non si è pensato a mettere una graticcia dove tu puoi appendere dei fari per illuminare uno spazio di eventi. Quindi lo devi fare sempre, come dire, cercando di trovare una soluzione. Quegli erano i soldi spesi per le attrezzature, adesso non ce ne sono più, lo dovrebbe fare il gestore, ma il gestore quanta possibilità se il laboratorio urbano non ha richieste, cioè se gli arrivano mille richieste di proporre dei concerti, uno pensa che forse quello è un canale di investimento. Ma se non ne arriva nessuna, probabilmente non lo farà mai, perché non è che uno investe sul nulla, deve avere comunque un dai e vai e avere una capacità di intuire che quella cosa può essere utile a qualcuno e quindi ci spende dei soldi. Lo staff, la gestione di uno spazio pubblico destinato ai giovani in un'attività impegnativa che richiede passione, competenza e inventiva. Per questo è importante che il soggetto che lo gestisce possa contare su una convenzione di durata molto lunga, per poter investire nel gruppo di persone che quotidianamente ci lavorano. Nello stesso tempo è fondamentale che il gestore sia capace di costruire relazioni stabili e di fiducia con gli operatori del laboratorio, uno staff motivato, intraprendente e preparato, costituiti in maggioranza da giovani. Cioè, ragazzi, chiariamoci, il laboratorio urbano, perché poi quando leggerete il bando capirete che servono tutte queste cose che vi dicono come premessa. Se ci fosse mia nonna, mio nonno, mio padre e mia madre a gestire un laboratorio urbano, voi sareste attirati a frequentarlo? Ci dovrebbe essere anche uno staff, non dico vostro coetaneo perché deve essere competente, ma perlomeno molto vicino anche al vostro modo di ragionare e di pensare, perché il confronto è vero che deve nascere dall'esperienza e dall'inesperienza, ma a certe volte l'inesperienza ti dà quelle idee che chi è esperto non ha, perché ha già avuto troppe mazzate nella vita, quindi magari non vuole rischiare, ma il giovane deve rischiare. E quel laboratorio di fotografia, se io dico, no ragazzi, già lo so perché è un laboratorio complicato, saranno pochissimi partecipanti, ma se ve lo immaginate voi, per questo oggi siamo a fare un laboratorio dal basso, cioè basso è inteso rispetto all'età, quindi i giovani devono lanciare le idee in alto. A Bari sapete che cosa è venuto fuori da un laboratorio di fotografia fatto a Bari vecchia, dove la maggior parte delle famiglie sono famiglie di pregiudicati, hanno fatto il laboratorio di fotografia nella scuola media a San Nicola e siccome erano i bambini che dovevano fare questo laboratorio, la mostra che poi è stata allestita era allucinante per chi di solito va a vedere mostre fotografiche, perché era dal punto di vista dei bambini, quindi tu vedevi le cose a questa altezza, quindi le fotografie erano così e noi non ci siamo mai, non so se voi ci avete mai pensato, io non ci avevo mai pensato, c'era una fotografia della marmitta della macchina, perché era praticamente un SUV e quindi il bambino era alla stessa altezza della marmitta del SUV, lui l'aveva fotografata, il SUV era in moto, era per strada, era in corso Vittorio Emanuele, l'ha fotografata e lì tu ti rendi conto, guardate questa secondo me è geniale, io mi sono reso conto con gli occhi di un bambino attraverso quella foto che respira, scusate il termine, la merda, perché è la stessa altezza, voi non avete bambino, una bambina di due anni e mezzo, quando vai con il passeggino, tu passi attraverso le auto e sei proprio all'altezza delle marmitte, dei tubi di scarico, non ci avevo mai pensato prima, allora l'arte è a servizio anche poi di quello che è la nostra mente, perché a quello serve e ti diverti se ci scommetti su, perché imparare a fare le fotografie non significa soltanto diventare un grande fotografo, significa anche avere una passione, curarla. Età degli operatori, dice che i laboratori urbani sono gestiti da ragazzi tra i 20 e 24 anni per il 9%, tra i 25 e 29 anni per il 10% e tra i 30 e 34 per il 33%, quindi poi va avanti 35-39 anni, quindi anche i miei coetanei, per il 24%, quindi voi avete a che fare con ragazzi che più o meno hanno tra i 10 e i 15 anni più di voi, possono essere i vostri fratelli maggiori, non stiamo parlando come dicevamo prima dei nonni, quindi c'è una possibilità di scambiarsi delle idee molto molto interessante. Apertura, un laboratorio urbano di qualità è un luogo aperto, lo spazio deve essere fruibile da tutti, in giorni e orari precisi e i cittadini devono poter accedere senza barriere e ostacoli, deve essere piacevole e accogliente ma non solo, un laboratorio urbano deve essere aperto soprattutto nelle modalità di gestione e coinvolgimento della comunità locale. Ora, noi siamo una regione del sud, abbiamo uno stile di vita mediterraneo, siamo molto simili ai messicani, ma vi immaginate un laboratorio urbano che è stato aperto dalle 2 alle 5 di pomeriggio? Io ci sono stato ad Andrea, durante i festival, durante qualche collaborazione e dalle 2 alle 5 di pomeriggio, così come in tutte le città pugliesi, non c'è nessuno, quindi se io apro dalle 2 alle 5, a chi faccio, a chi do questo servizio? A nessuno. Questo è un esempio rispetto a quello che dicevamo prima. Il fatto di sapere lì dice, con degli orari e delle giornate di apertura chiare, se io so che il pub sotto casa mia apre tutti i giorni dalle 18 alle 24, per me è chiaro, ci vado in quella fascia oraria e so che è aperto. Se un giorno apre la mattina, un giorno apre il pomeriggio, un giorno apre la sera, un giorno apre di notte, anche perché non è che tutto è sotto casa mia, uno ci deve pure arrivare, ma non deve rischiare che quel posto sia chiuso, perché ci va una volta ed è chiuso, ci va due volte ed è chiuso, la terza volta non ci va più. Queste sono regole semplicissime, proprio... Però chiedetevi perché loro si sono detti, dobbiamo scriverle, perché noi probabilmente non ci riflettiamo bene quando facciamo le cose, noi tutti, non dico... perché loro se le hanno scritte, perché molti laboratori urbani non seguivano queste regole, infatti portano degli esempi positivi su cose banali, un negozio di scarpe apre dalla mattina alle 9 fino a luna e poi dalle 5 fino alle 9 di sera, punto. Non è che tu vai e... a meno che non ci sia un lutto o quello si sta sposando, faccio un esempio positivo, non solo negativo, cioè quello si è aperto. Però loro lo stanno spiegando agli operatori, stanno dicendo questa è l'indicazione che noi vi diamo e se lo stanno spiegando è perché non tutti lo facevano, non tutti lo facevano. Noi siamo un teatro, siamo in periferia, ma non è che apriamo soltanto quando c'è lo spettacolo. Il nostro teatro è aperto negli orari d'ufficio tutti i giorni e poi la sera quando c'è lo spettacolo. Se tu hai bisogno di parlare con me, se vieni dalle 9 alle 19, c'è una pausa pranzo tra le 13.30 e le 14.30, mi trovi tutti i giorni e questo è scritto anche nel sito. Immaginati se tu devi venire a parlare con me o mi stai cercando, io non do informazioni su quando sono aperto. Che devi fare? Devi venire da Andria a Bari ogni volta a citofonare oppure devi fare mille telefonate per capire quando ci sono e quando no. Io, siccome ho anche l'interesse che voi sappiate quando ci sono, devo essere chiaro in queste comunicazioni. C'è una pausa che diciamo quando vuoi. Ah, spi. Termina la pagina. Termina la pagina, il documento. Il documento. Allora, riguardo ai diversi periodi dell'anno, i laboratori urbani che hanno la disponibilità di spazio all'esterno, la possibilità di garantire un'apertura più prolungata. Tra questi alcuni laboratori restano aperti 340 giorni all'anno. Ad esempio, qui cita anche Arte Franca di Martina Franca, che è il laboratorio urbano che vi dicevo prima. Facciamo l'esempio di prima. Noi siamo meridionali, mediterrani. Qui vi immaginate di fare un'attività al chiuso nel mese di luglio. Siete mai andati a teatro nel mese di luglio? Forse al cinema, aria condizionata, ok, ma è rarissimo. All'aperto. Quindi chi ha la fortuna di avere un laboratorio urbano che ha degli spazi esterni, ha la possibilità di non aprire dieci mesi all'anno, magari tutti i mesi dell'anno. Io ho detto che ne gestisco quattro, non tutti e quattro hanno spazi esterni. Due ce li hanno, due non ce li hanno. Mi sono cercato nelle città dove non avevo gli spazi esterni un posto dove comunque poter fare delle attività. E questo che significa? Perché è tutto collegato, ragazzi. Se io non sono connesso con gli altri che operano nello stesso settore, nella stessa città e non so quando lui calendarizza una cosa e quando io la calendarizzo e soprattutto non mi relaziono con lui e non costruisco dei progetti con lui. Immaginate se io domani vado a casa della professoressa e dico professoressa posso usare il suo giardino per fare una cosa? La professoressa mi dice ma chi ti conosce? E perché? Se invece con la professoressa noi una volta al mese ci vediamo per capire cosa fai tu, cosa faccio io, lo mettiamo in questi orari, lo mettiamo in questi giorni, ci coordiniamo, ci scambiamo anche delle opinioni, ci scambiamo anche delle visioni, probabilmente sarà spontaneo che se io ho bisogno di uno spazio la professoressa me lo darà e viceversa se la professoressa che è stata a quel giardino che però non utilizza d'inverno ha bisogno di uno spazio chiuso me lo chiederà io glielo darò. Ma questa è un'altra cosa banale, ma vi posso assicurare che lo scambio, fare rete, il co-working anche, è una cosa complicatissima, cioè voi siete giovani non avete ancora questo problema ma vi dico lavorate sempre in questo modo, scambiatevi sempre le opinioni, sempre con l'attenzione del libero mercato e della concorrenza, però come dire con correttezza e trasparenza, perché guardate alla fine ci guadagnerete sempre, perché se tu sei scorretto con me la prima volta, forse io ti concedo una seconda possibilità, ma poi dopo la seconda scorrettezza probabilmente io con te non lavorerò più. Spazio e progetti. Alcuni laboratori si sono dimostrati spazi realmente aperti alle progettualità giovanili del territorio, svolgendo la funzione di incubatori e acceleratori di giovani idee. Allora, questo è esattamente quello da cui siamo partiti, io ho delle idee, le metto in campo e vado, e le propongo, dall'altra parte mi aspetto che ci siano anche delle idee che partano da voi. È chiaro che forse io con la mia esperienza, perché uno non è un tutologo mai, ma figuriamoci se lo può essere a 18 anni, a 16 anni, e probabilmente quello che voi proponete deve essere un pochino rivisto, ripensato e rimodulato, ok? Perché uno poi approfondisce, capisce pezzo per pezzo se la vostra idea è fattibile dall'A alla Z così com'è. Probabilmente qualche correzione ci deve essere, però quello significa esattamente quello da cui siamo partiti, cioè deve essere uno scambio continuo. Io oggi ti propongo, perché è la mia idea, un laboratorio con Domenico, domani voi mi proponete un laboratorio con lui, scusi se non mi ricordo più il tuo nome. E probabilmente la cosa dopo domani sarà un laboratorio tutto insieme con la professoressa. Questo, se è fatto bene, c'è uno scambio continuo, può far solo crescere un progetto, perché nel momento in cui non ci si parla più, non ci si confronta più, le idee si sgonfiano, la vitalità proprio perde di, come dire, spessore. Sì, lo so che dobbiamo fare la pausa. Salto un po' di passaggi. Questo è quello che dicevamo prima, lo cita. I laboratori bande a parte di Gioia del Colletturi, quelli sono altri due laboratori, dei quattro che gestivamo, e Arte Franca di Martina Franca, hanno lanciato un bando per la coprogettazione e coproduzione di attività culturali a sostegno della creatività giovanile, coinvolgendo associazioni e cooperativi locali nel percorso di gestione degli spazi. Quindi noi che abbiamo deciso di fare, proprio perché secondo noi è importantissima la relazione con il territorio e con chi vive quel territorio, abbiamo detto in maniera molto trasparente, da oggi c'è questo avviso, cioè l'abbiamo fatto noi, non è mica un bando di gara, un bando pubblico, c'è questo avviso. Vi diciamo che queste sono le quattro regole, perché il fatto di entrare in un luogo pubblico, significa anche rispettare quel luogo pubblico, non è che prendo la sedia che poi è del comune e me la porto a casa, quindi con delle regole e in maniera trasparente abbiamo presentato questo bando, che vi ho detto che è aperto sempre, quindi noi ogni tre mesi poi vediamo i progetti che ci sono arrivati e tutti possono candidarsi a fare delle cose, che però devono essere coerenti con quello che è l'idea progettuale del laboratorio urbano. Se io voglio fare dei progetti dedicati soltanto ai giovani, non è che mi viene l'associazione del over 70 a proporre, possiamo fare la sera la partita a carte? Perché non è quello per cui è nato quel progetto, è quello che io voglio fare. Se uno mi propone, posso fare un laboratorio di scacchi per i ragazzini di 10 anni, forse è un'idea giusta. Scusate, io proprio questo te lo chiedo. Del laboratorio di scacchi? No, della idea, cioè anche se conosci il responsabile della scultura, però di parlare... E ragazzi scusate che non sento cosa dice la signora. All'inizio puoi parlare, dialogare e lanciare un'idea approssimativa, però comunque se lui ti dà un ok, sempre bisogna presentare un progetto già scritto, voglio dire, con delle... Allora, siamo tutti diversi, nel senso che io gestisco i miei laboratori urbani in quel modo. Cioè va bene una mezz'ora, un incontro in cui ci si scambiano delle idee, però chiedo poi uno sforzo, quello di mettere su un foglio di carta l'idea che uno ha in testa, perché già nello scrivere uno si rende conto in autonomia che forse di quello che aveva pensato c'è qualcosa che non funziona, perché deve rimettere in ordine le idee e sforzarsi di riempire una paginetta. Già quello è un altro passaggio, anche perché mi dà la possibilità di non andare a memoria, magari noi ci incontriamo oggi e poi tra un mese, ma di avere una carta, un documento, che io posso prendere in qualsiasi momento e capire in qualsiasi momento, prima del secondo incontro, se la cosa può andare oppure no. Quindi deve essere un progetto strutturato... Strutturato in base a delle regole che ognuno, cioè ogni laboratorio urbano può indicare quali sono le regole, perché qualcuno potrebbe dire, cioè ad esempio noi abbiamo un laboratorio urbano in pieno centro a Gioia del Colle. Sappiamo benissimo, perché è nel centro storico, che oltre la mezzanotte non possiamo fare attività, quindi una delle regole è che le attività devono concludersi a mezzanotte, quindi se tu vuoi fare una cosa che va oltre la mezzanotte non la puoi fare lì dentro. Però io te lo dico prima, perché non è che ogni volta devo stare a ricordarmi le regole quali sono, le metto già in evidenza in maniera tale che uno, se ha voglia di presentare un progetto, lo fa seguendo delle indicazioni, che un po' è la linea anche di quello che sono, è il concetto di quello che fa il laboratorio urbano, perché l'assessorato già ti dice prima cosa puoi fare e cosa no, e in che modi relazionarti, qui ti dice addirittura cercate di avere sempre la stessa persona che gestisce quello spazio, perché altrimenti come fanno le persone ad affezionarsi al luogo e di aprire sempre giorni e orari predefiniti. Ve l'ho detto prima, sono banalità per qualsiasi persona che conduce un'attività imprenditoriale o per qualsiasi persona che si relaziona a qualcuno, però se loro l'hanno sottolineato probabilmente perché in alcuni laboratori urbani si apriva quando si voleva, oggi andavo io, domani andava lui, non si faceva mai un incontro, probabilmente non è mai sicuramente stato pubblicato un avviso per dire noi ogni lunedì stiamo qui, stiamo chiedendo a voi tutti di candidare dei progetti, che ne so, sul tema della legalità, ad esempio. Quindi se loro l'hanno scritto è perché queste cose che sembrano normali non sempre lo sono, abbiamo quasi finito. Diversificare. Molti laboratori urbani hanno puntato sulla diversificazione delle attività e dei servizi, della formazione agli eventi, delle sale dedicate alla musica, gli spazi per mostre ed esposizioni. Secondo i dati rilevati dalla segretaria del laboratorio urbano, su un campione di 47 laboratori ogni spazio propone una media di 6-7 attività differenti. Allora, due sono le possibilità, uno si specializza, io so fare benissimo una cosa ma sono eccellente, quindi da tutto il mondo vengono qua perché quella cosa la trovo solo qua, ma questo significa avere una professionalità tale, per essere eccellente, devi avere una professionalità tale che è unica, perché se tutti vengono da te è perché tu sei il maestro di quella cosa? Probabilmente. Questa cosa quindi molto probabilmente non è fattibile perché un maestro sicuramente non si, come dire, non si lancia a gestire un laboratorio urbano, non ha bisogno di farlo, non è quello il messiere suo, però magari un gestore di un laboratorio urbano non ha le eccellenze perché le eccellenze, cioè il Benini ve l'ho detto ieri, fa uno sbadiglio e costa 200 mila euro, se faccio io uno sbadiglio tu mi chiedi due euro per il fastidio che ti ho dato, allora non hai le eccellenze, allora che cosa fai? Diversifichi le tue attività per proporre più cose coerenti sempre con lo spirito poi del progetto, lo devo dedicare ai giovani, ma giovani non significa solo la fascia d'età, io vi posso assicurare che ci sono dei settantenni molto più arzilli di voi e di me messi insieme, ma arzilli mentalmente perché hanno voglia di fare, non deve essere dedicato soltanto alla fascia d'età, ma è proprio lo spirito dell'idea progettuale che deve essere giovanile e vincente, diversificare significa che questo spazio non può essere dedicato soltanto ai convegni, potrebbe essere dedicato a mille altre cose diverse, perché se lo dedico solo ai convegni probabilmente lo aprirò tre giorni all'anno e non riuscirò mai a incassare quello che mi serve per tirare avanti, quindi saranno i convegni, saranno i concerti, saranno delle mostre, perché io vi devo dare come sempre degli input tutti i giorni per farvi venire qui e molto probabilmente all'inizio su dieci proposte non ve ne interesserà neanche una, poi magari vi affacciate e scoprite cavolo, ma quella cosa che mi hanno fatto fare oggi è carina, allora lo frequento quel posto e forse dopo un po' inizierete a dire voi a chi gestisce lo spazio, ma perché non facciamo questa cosa in questo modo? Però se non vi frequentate, di che stiamo parlando? rinnovare, poi facciamo pausa, la vitalità di un laboratorio urbano non è un risultato acquisito, ma va alimentata nel tempo attraverso la continua riprogettazione dello spazio delle attività, è quello che abbiamo appena detto, alimentata nel tempo significa che se non lo vivi tutti i giorni e non ti confronti tutti i giorni e non lo senti tuo, lo subisci passivamente, però voi non dovete subire passivamente, dovete essere anche voi i promotori delle cose, perché è troppo facile, ma questo lo dico a voi, ma è un problema anche degli adulti, è troppo facile indicare le cose che non vanno bene e basta, dire quel laboratorio urbano fa schifo, quell'idea fa schifo, ma perché voi vi siete mai messi in gioco, avete mai proposto delle idee e avete mai capito se poi quell'idea concretamente era un'idea fattibile oppure no, dire a lei che ogni volta che fa una cosa la fa male, è facile, ma tu ti sei mai messo a fare la cosa che fa lei, cioè mi hai provato, però lei le fa benissimo, guardate, pausa, pausa.